Eeeh! Ti puoi dare una parola di zambetta, come va? No, tu che ti puzzi qua! Lo sai che mi piace quando mi metti in culo, però perché non mi dici mai che sei la puttana te? Oh, sto a parlare con te, eh? Tengo una pizza con me niente e più mi tocco più me ne vengo. E se me gli tocco piano piano metto me ne vengo subito in mano. Chi gli ha ricchionato a merda mi voleva fare cita, ma io mi ho provato a allenare gli accedi Eeeh! Ma che ci pu... mamma! Papà, papà! Stanno cercando i carabinieri. Ma davvero? Sì, sì, ti stanno cercando. E ti vogliono una roba pure di culo. Non ti preoccuparti, vienzie. Cacaci in capo! Senti un po', io vengo da scappare. E tu non fai di cagare sotto. E mi raccomando. Non ti fai un pa' di culo. Vaffanculo. ... ... Quanta cazzo da volta ve la venga di che il patrimonio ci sta? Non mi tocca il culo! Che dove è un affanculo? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.